Il contatto mi fa venire un po' di caldo, mi fa pensare all'estate, io odio il freddo e l'inverno, il vedersi mi fa pensare a primavera, all'estate mi fa stare meglio. E qui accanto a te c'è Alessandro Pagliai, che è un mio imitatore, non solo perché siamo entrambi con pochi capelli, anzi con niente capelli, però io quando sento Alessandro pagliare le sue cronache, mi ricordo gli anni 70, quando inventai le cronache dall'entrone. Allora ha avuto un nuovo maestro? Non lo so, questo lo dico io, sei stato un bravagliere. E da me, facciamo un bilancio alla fine. Io ho avuto qualche scintilla in meno rispetto a Alessandro Pagliai, perché rispetto ad oggi c'era un po' più di rispetto appunto per le famiglie dirigenti che arrivavano. Sì, poi cambia tutto, cambiano i tempi, cambiano anche i rapporti, però si cerca di fare quel che si può nell'intervistare questi personaggi così famosi a Siena. Mi trovo più facile guardare quali io più penso durante l'inverno, ma magari c'è un po' da parola a me, quando è riuscito, proprio in realtà. Ma io, sì, diverse volte, diciamo che la sera, anche quando magari c'è dei momenti liberi così, mi diverte di guardare, ma non soltanto mi è un po' più. Invece proprio del rapporto con la gente, con questo popolo, ti accolto con i geni, ti abbracciato, in maniera così intensa, che ti lascia? Ma io penso che il rapporto con le persone ci voglia, anche perché dopo ti sente ancora più in dovere di fare qualcosa con lui, anche durante tutto l'anno. Però ti lascia un bel corpo, ti lascia altre cose innanzitutto dell'amicizia grande che si vengono a costruire perché è nato tutto insomma.